La patologia diabete è una delle patologie che comporta un carico non solo di attività e di impegno da parte di tutti gli operatori della sanità ma anche costi elevatissimi e i costi elevatissimi della gestione di un paziente diabetico non riguardano in pochissima quantità la spesa farmaceutica ma il grosso problema sono le complicanze che derivano da un percorso di gestione e di evoluzione della malattia che arriva fino a delle complicanze gravi. Come possiamo fare per evitare e per ridurre o per limitare l'evoluzione di queste complicanze? Due strade fondamentalmente. La diagnosi precoce è un percorso di gestione integrato tra le varie figure professionali che entrano in gioco nella gestione di questa patologia. Che oggi sia assolutamente necessario rivedere i modelli di presa in carico e affidare ad un professionista che collaborando con altri operatori sanitari, medici o non medici, quindi operatori come gli infermieri, come gli operatori amministrativi, in collaborazione con gli specialisti si faccia a carico, come si dice usualmente ma è esattamente così, di accompagnare il paziente per i 30-40 anni di gestione della malattia cronica. Separata dalla diagnostica, separata dal ricovero ospedaliero, separata dalle cure territoriali non riusciremo mai ad avere una valutazione realistica di quanto costa un malato cronico e di che cosa produce il costo, i soldi che spendiamo per questa malattia cronica. Quindi il tema del farmaco oggi diventa una piccola appendice, è assolutamente ingiusto che colui che ha la cura, la responsabilità di cura del paziente cronico sia privato di qualsiasi terapia. L'incontro ha confermato la volontà di collaborazione che ormai dura da più di 20 anni con i medici di medicina generale e rafforza la necessità di collaborazione a 360 gradi sul paziente cronico, in particolare con il diabete. È necessario però permettere a tutti coloro che gestiscono la patologia diabetica insieme ai pazienti di poter accedere a tutte le armi terapeutiche più appropriate che gli standard definiscono come di livello superiore, di secondo step dopo la metformina. Per cui chiediamo alla Regione Lombardia, in modo particolare alle istituzioni nazionali, che venga accolto l'appello di poter offrire anche ai medici di medicina generale la possibilità di utilizzare questi farmaci. Da parte del medico di medicina generale di prescrivere alcuni farmaci che da pochi anni, ma ormai comunque in modo fortemente consolidato, sono entrati nella nostra valigetta degli strumenti e questo potrà essere anche una grossa opportunità, anche volendo di risparmio economico, più che di spesa ulteriore, perché potrebbe accorciare il tempo di prescrizione di questi farmaci che in alcuni casi possono andare anche a migliorare molto le qualità di vita del paziente. Uno degli argomenti più importanti è stato quello della gestione integrata, cioè come riuscire a migliorare ulteriormente la performance di cura al paziente, utilizzando una rete importante che è quella delle cure primarie e dei medici di medicina generale. In questo senso l'AIFA si è chiesta, se era il caso, di avviare anche un processo prescrittivo delle nuove farmaci, parlo soprattutto delle incretine, farmaci che danno una migliore performance performance anche cardiovascolare, oltre al migliorare il profilo glicemico dei pazienti e in effetti l'AIFA e le società scientifiche, viene fuori da questo tavolo chiaramente, la SID, le principali società scientifiche nazionali, SID e MDI, chiedono ad alta voce di consentire ai medici di medicina generale la possibilità di prescrivere nei piani terapeutici questo tipo di farmaco. Oggi è un momento molto importante perché si sta portando avanti il progetto di integrazione con i medici di medicina generale che per noi è fondamentale, oltre alla prescrivibilità da parte loro dei farmaci cosiddetti innovativi, è anche molto importante che ci sia la presa in carico della persona con diabete, anche per alleggerire il grosso carico che hanno i nostri centri diabetologici dove il personale è sempre meno e noi purtroppo siamo sempre di più e quindi non si riesce in qualche modo ad ottenere quello che è il maggior beneficio per la nostra salute.